Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Tamponamento in A14, tre feriti e quattro mezzi coinvolti Ancora disagia Fano per il terremoto Chiuse le chiese di Santa Maria Nuova e San Cesario a Carrara A sostegno dei terremotati in arrivo un kit amatriciana e tagliatelle al tartufo solidale Multe in calo per il codice della strada e più sanzioni per revisioni per i furbetti dei rifiuti Presentato il bilancio della polizia locale di Fano Un autobus viaggia con le porti aperte, ecco il video con la segnalazione di un passeggero In arriva a Sassonia di Fano 30.000 tonnellate di massi per clompetare le scogliere fino all'anfiteatro Rastat Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli, un tamponamento fra tir si è verificato ieri sera intorno alle 23 Lungo la corsia sud della 14 tra Fano e Marotta Nel sinistro sono rimasti feriti entrambi i conducenti dei mezzi pesanti Un 58enne di Bari e un 52enne originario di Napoli Che sono stati trasportati all'ospedale San Salvatore di Pesaro Inoltre a causa del violento impatto si sono riversati sulla careggiata Sia detriti dei tir che parte del carico di un auto articolato che trasportava bolloni Questo materiale è finito contro due autovetture Una Grande Punto e un Ford Transit che stavano sopraggiungendo Uno degli automobilisti, un cinquantenne che per lo spavento accusato un malore È stato trasferito al Santa Croce di Fano Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco Per liberare dalle lamiere il conducente del tir che ha tamponato E la polizia autostradale per i rilievi di leggi Per circa due ore nel tratto interessato sono state chiuse due delle tre corsie Per permettere le operazioni di soccorso e la pulitura del manto stradale E adesso torniamo a parlare del terremoto Perché a Fano rimangono chiuse le chiese di Santa Maria Nuova e San Cesario Ma sentiamo gli aggiornamenti nell'intervista che ha realizzato questa mattina Lino Balestra Al parroco di Carrara Don Pier Giorgio Giorgini Siamo all'esterno della chiesa di San Cesario a Carrara Perché Don Pier Giorgio Giorgini ci ha chiamato un po' così preoccupato Allarmato per il fatto che molti gli chiedono sullo stato di salute di questa chiesa Che è stata chiusa ricordiamo per ordinanza del sindaco in maniera del tutto precauzionale Per alcuni intonaci che sono venuti giù Noi adesso lo andiamo a incontrare per capire qual è in realtà E realmente la situazione della chiesa che possiamo vedere anche che gode di buona salute Bisogna riconoscere che abbiamo continuamente bonificato Esternamente non c'è nessun segno, nessuna lesione Direi che questa vecchia chiesa è del 1933 Ha retto magnificamente Naturalmente la gente che ricorda i tanti disagi del passato Appena ho sentito dire che avevo chiuso la chiesa Subito ho gonfiato la cosa Si dice anche stamattina qualcuno mi ha fermato È vero che vi sta crollando la chiesa? No, non crolla niente Insomma c'è questo punto qua su Dove un pezzettino di decorazione Alla volta è caduto Tutto lì Il sindaco le ha risicurato che appena avete messo mano a questo lavoro Si potrà riaprire chiaramente Si, era il vice sindaco Ho parlato con lui e ha detto così Che appunto a scopo precauzionale dovevamo tenere chiuso E l'abbiamo fatto subito Anzi l'avevamo già fatto Per fortuna abbiamo un fabbricato inaugurato nell'ottobre scorso E c'è una grande sala L'abbiamo adibita a chiesa E già viene ufficiata puntualmente Nelle varie circostanze anche di questi giorni E per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto Sono state organizzate diverse iniziative Anche nella provincia di Pesero e Urbino Fra queste un kit amatriciana e delle tagliatelle solidali Sentite di che cosa si tratta Per dare un sostegno alle popolazioni colpite dalla terremoto È arrivato un vero e proprio kit amatriciana Da preparare a casa, in famiglia o con gli amici A lanciare l'iniziativa è la Confederazione Italiana Agricoltori I kit sono già disponibili presso tutte le sedi provinciali CIA delle Marche E nelle confezioni si potranno trovare gli ingredienti tipici Per la preparazione di una amatriciana per quattro persone Seguendo la ricetta autentica che sarà presente nella scatola Firmata dall'agri-chef Emilio Gentili Un'istituzione culinaria nella zona di Cittareale Il kit sarà consegnato dietro un'offerta minima di 10 euro Interamente destinati alle iniziative a favore dei terremotati Anche ad Aqualagna non stanno con le mani in mano Anzi con il tartufo in mano Un euro per ogni piatto di tagliatelle al tartufo nero Per le popolazioni colpite dal sisma E quanto promuove invece la Proloco di Aqualagna Durante la 51esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Per offrire un piccolo ma importante contributo Per le persone sfollate L'iniziativa che si svolgerà per tutto il periodo dell'evento Il 5, il 6 e poi il 12 e 13 novembre Vicino a Piazza Mattei Dove la Proloco ha allestito un padiglione ristorante Sia a pranzo che a cena si potranno degustare le tagliatelle al tartufo nero Al costo totale di 7 euro Di cui un euro sarà devoluto alla comunità marchigiana terremotata E adesso continuiamo a parlare del terremoto Perché a Saltara A seguito del trasferimento delle classi Della scuola Romeo Dezzi Nei locali della delegazione comunale di Calcinelli E per consentire l'accesso agli scuola bus in via Carducci Nella giornata di mercoledì Quando si svolge il mercato In accordo con Asur Marche I prelievi che vengono eseguiti Al laboratorio analisi di via Carducci Saranno anticipati al martedì Nei soliti orari E adesso vi facciamo vedere due filmati Che sono stati girati questa mattina Da un passeggero della Corriera 99A Fano Pesaro Come potete vedere Si tratta di un fatto gravissimo Che è successo poco prima delle 8 Quando all'altezza di Gimarra Le porte posteriori del mezzo non si sono richiuse I passeggeri lo hanno prontamente segnalato All'autista che a sua volta Ha provato in vano a richiuderle E a sistemare le maniglie Infatti una volta ripresa la corsa Le porte si sono spalancate di nuovo In quegli istanti L'autobus era quasi pieno Fra studenti, lavoratori e persone anziane Ma per fortuna tutti i passeggeri erano seduti Il nostro telespettatore ci segnala Non solo che il mezzo è ormai datato E che quindi avrebbe bisogno di una sostituzione Ma anche che quegli sportelli Che si aprono verso l'esterno Avrebbero potuto far del male a qualcuno Sia ciclisti e pedoni Che agli stessi passeggeri Ecco naturalmente siamo a disposizione Per eventuali repliche Andiamo avanti In occasione dell'anniversario Della fondazione del corpo Della polizia municipale di Fano Il comandante Giorgio Fuligno Oggi ha stilato un bilancio Dell'attività svolte dai vigili urbani Rispetto allo scorso anno Sono state elevate 3.000 sanzioni in meno 1863 A Fano viene fondato Il corpo dei vigili urbani Ora polizia locale 153 anni di storia Di rapporto con la città 153 anni di lavoro A tutela della sicurezza urbana e sociale 153 anni di pattuglie Divise uomini Servizi speciali E migliaia e migliaia di ore A dirigere il traffico Storia Cimeli ed orgoglio Di un corpo di polizia Al servizio della comunità Domani ricorre appunto Il 153esimo anniversario Del corpo E per l'occasione La cittadinanza è invitata A partecipare Alla cerimonia religiosa Che si terrà Nella chiesa di San Paterniano Alle ore 10 In occasione della quale Si esibirà anche il coro Del corpo della polizia municipale Già apprezzato In altre apparizioni pubbliche Siamo soddisfatti Mi premeva sottolineare Anche che in occasione Della Santa Messa Che ci sarà In occasione Proprio della ricorrenza Che domani Il 5 di novembre Ci sarà il coro Della polizia municipale Che è stato tanto apprezzato A fermo In occasione Della festa regionale Della polizia 153 anni Non solo a far multe Come tiene orgogliosamente A sottolineare Il comandante Fuligno La moderna interpretazione Del servizio Passa attraverso Tecnologie innovative E moderne tecniche Di controllo e monitoraggio Del territorio Attraverso anche Sistemi di videosorveglianza Con apparati multifunzione Che hanno consentito Di individuare 900 mancate revisioni 1200 violazioni Alla ZTL 140 fermi fiscali E 257 reati ambientali Oltre a 1700 eccessi di velocità A 5 agenti Inoltre sono stati conferiti Questa mattina Attestati di lodevole servizio Con particolari operazioni Che hanno consentito Agli agenti Schiavone Michele E caro figlio Michele Tra l'altro Di arrestare Un pericoloso Pluripregiudicato Reo di furto Di un veicolo Ma al di là Delle individualità E lo spirito di corpo Quello che più galvanizza Il comandante In questa ricorrenza Comunque È significativo Anche la coesione Nell'ambito Pur delle difficoltà Il personale Ha proposto Tante iniziative Che piano piano Metteremo in atto Da una rassegna storica Di tanti ricordi Che abbiamo Ad uno stand Su tutte le tecnologie Che abbiamo a disposizione Alla visita Del comando E tra l'altro Il nostro comando Ha anche delle grotte Che sono medioevali Che meritano Adesso un attimo Di attenzione Nell'azione SIGMA Perché sono veramente belle Ricordi medievali Sotto il comando Dati preoccupanti Invece riguardano Le vaccinazioni Che sono in calo Nell'area Vasta 1 E la maglia nera Se la giudica Pensate La città di Pesaro In Italia Il numero dei bambini Vaccinati Per le principali malattie Sta scendendo Al limite Della soglia di sicurezza E si trovi Già oggi Al di sotto Degli obiettivi previsti I vaccinati Per poliomelite Tetano Difterite Ed epatite B Sono scesi Al 95% Quelli contro Morbillo Parotite E rosolie Sono arrivati All'86% E sono scesi Di oltre 4 punti Percentuali In un anno E quanto afferma In una recente nota L'Istituto Superiore Di Sanità Così L'obiettivo Di vaccinare Almeno il 95% Resta sempre più lontano Ma perché È pericoloso Scendere sotto Questa soglia È pericoloso Perché Far venire meno La cosiddetta Immunità di gregge Alcune persone Infatti Non possono vaccinarsi Per particolari condizioni mediche Così Per evitare il contagio La salute di queste persone Dipende dal fatto Che siano immuni Tutti gli altri Così Da non diffondere Le malattie Nell'area vasta 1 La percentuale È scesa Ed in particolare Il dato provinciale Segna Un 91,83% Su questo E su come Una corretta informazione Può controvertire Questa tendenza Si è discusso Nel convegno Tenuto questa mattina Nella Sala Verdi Del Teatro Della Fortuna I dati sono preoccupanti Come ha sentito Anche recentemente Dal professor Signorelli A livello internazionale Pesaro Ha un dato Ancora più preoccupante Perché ha una copertura Vaccinale Estremamente bassa Le marche Sono in linea Con quelli che sono I dati In genere Del nostro territorio Soprattutto Fano e Pesaro Sta di fatto Che c'è bisogno Di comunicare C'è bisogno Di far conoscere C'è bisogno Di creare I presupposti Tecnici e scientifici Per una corretta Informazione Alla popolazione Alla gente Un ruolo fondamentale Per evicolare Corretti messaggi È rivestito Dall'informazione Che deve essere affidata A chi ne ha Le competenze giuste Io ritengo Che debba essere Ripristinato Un concetto Che degli argomenti Deve parlare Chi ha Una provata Conoscenza E non il primo Fesso che passa Per la strada Inter Traende tutti Critici gastronomici Tutti allenatori E tutti i medici Insomma Il ristorante Possiamo scherzarci sopra Ma quando si parla Della salute No Perché poi c'è Un grave danno Per tutti quanti Io ritengo Che l'azione Più importante La dobbiamo fare Noi medici E i giornalisti Prima di tutto I medici Perché c'è un ordine Dei medici Che deve sanzionare Chi racconta Pericolose ucine Ma il fenomeno Oltre che dal punto di vista Sanitario Va inquadrato Per poter capire Il perché L'informazione Antivaccinale Fa così presa Su alcune fasce Della società Bisogna comprendere Gli aspetti sociologici Del fenomeno Innanzitutto Va detto Che la mia Non è un caso Che i problemi Nascano In questo Emergano Contro le vaccinazioni In questo periodo Perché appunto Se vogliamo fare un'analisi Diciamo Sociologico Popolazionale La mia generazione Cioè quella attuale Diciamo Dai 35 45 anni Cioè gli attuali padri Parents Come li chiama La letteratura inglese Sono quelli che Non vaccina i figli Perché ha avuto La fortuna Grazie al successo Della vaccinazione Di non percepire Gli effetti Delle malattie Infettive I buone notizie Invece arrivano Da Sassogna di Fano Dove riprendono I lavori Per realizzare Le scogliere Le nuove scogliere Fino all'Anfiteatro Rastat Siamo in Viale Ruggeri Con il sindaco Massimo Seri Con l'assessore Fanesi Perché siamo in attesa Della nave Proveniente dalla Jugoslavia Che arriverà Con i massi Che verranno Posizionati Per il riavvio Dei lavori Sulle scogliere Sì siamo qua In attesa Per fare la pesa Con i tecnici Del comune Questa è la buona notizia Che riprendono I lavori Delle scogliere Qui in Sassonia Abbiamo avuto Un rallentamento Perché c'erano Alcuni problemi Burocratici Ma li abbiamo risolti Con questi lavori Che sono L'ultima azione Dell'appalto Del prima dell'estate E si aggiunge Anche il secondo appalto Fatto direttamente Dall'amministrazione comunale Per altri 900 mila euro E che concluderanno Fino all'anfiteatro Rastat Quindi adesso Faranno Renderanno Sommersi Quattro lotti Quattro scogliere E se ne aggiungeranno Delle altre Due Tre nuove Che appunto Arriveranno Fino all'anfiteatro Rastat Quindi insomma Possiamo dire Che il capitolo Via Le Ruggeri Perlomeno Cercherà di trovare Uno spiraglio di sole Tempo permettendo Sì Adesso i lavori Riprenderanno Intorrettamente Quindi finché non saranno Finiti Quindi mare permettendo Insomma I lavori da oggi Sono ufficialmente Partiti Quindi pensiamo Che entro la fine dell'anno Saranno ultimati Adesso le date certe Non le possiamo avere Perché ripeto Col mare Non ci sono certezze Dipende anche Dalle condizioni Climatiche Però ormai L'ostacolo è stato superato E siamo in direttura D'arrivo Assessore Quante tonnellate Di materiale Arriveranno? Allora in tutto Mancano Per riemergere I quattro setti Che mancano Qui in Via Le Ruggeri 30.000 tonnellate E quindi Dai prossimi giorni Saremmo Diciamo Come dire Pieni di navi Che lavoreranno Qui davanti E portano Oggi Arrivano 1.100 tonnellate E poi Tutto il resto Successivamente Con un pontone Che ovviamente Le disporrà Come è stato già fatto Ben bene In difesa della costa E nella sede Della fondazione Carifano Si è svolto Un congresso Dal titolo Terapie Oro Onco E matologiche Aspetti etici Clinici E psicologici Durante il convegno Che proseguirà Anche nella giornata Di domani L'ordine dei giornalisti Delle Marche Consegnerà Il primo Memoria Al Maria Grazia Capulli Giornalista originaria Di macerata Deceduta Lo scorso anno A Pio Sodalizio Dei Piceni E rimaniamo in tema Di premi e riconoscimenti Perché nei giorni scorsi Nella sede Della Confcommercio Di Pesor È stato consegnato Il premio Anti-racket Al procuratore nazionale Anti-mafia E anti-terrorismo Franco Roberti Un incontro per celebrare Il valore del lavoro La libera impresa L'impegno quotidiano E il rispetto Delle istituzioni Sono questi Gli elementi Che hanno caratterizzato La giornata Dei maestri Del commercio Che si è svolta Domenica 30 ottobre Nella sala convegni Della Confcommercio A Pesaro L'iniziativa Organizzata Dall'associazione Degli over 50 È cominciata Con la consegna Della 17esima targa Della solidarietà Premio Anti-racket Un importante riconoscimento Che è stato assegnato Al procuratore nazionale Anti-mafia E anti-terrorismo Franco Roberti In magistratura Dal 1975 Roberti Ha rivestito Delicati incarichi A servizio dello Stato Ed è un esempio Una testimonianza Dell'impegno profuso Per la difesa Della legalità Falcone diceva questo Che non si può pretendere L'eroismo Dall'enermi cittadini Ma che dobbiamo essere Noi uomini E donne Delle istituzioni A guadagnare la fiducia Dei cittadini Dimostrando Di fare sul serio Contro la criminalità E di voler andare Fino in fondo Dopodiché i cittadini Quando avranno guadagnato fiducia Seguiranno le istituzioni Crederanno nelle istituzioni Crederanno nello Stato E rispetteranno la legge L'incontro è proseguito Con la consegna Delle onorificenze Dei maestri del commercio E ad essere premiati Sono stati 28 Lavoratori autonomi Commercianti Operatori turistici E dei servizi Che hanno gestito Per 25, 40, 50 anni La propria impresa Contribuendo alla crescita E allo sviluppo Del paese Ma è la loro presenza Che ha fatto grande Questo paese Perché oltre il 92% Delle imprese In Italia Sono imprese Che hanno meno Di 9 dipendenti Sono piccoli imprenditori Sono loro Che hanno fatto Lo sviluppo economico Degli anni 60 Sono loro Che hanno garantito L'occupazione E anche in questi Giorni di crisi Sono le imprese Del commercio Del turismo E dei servizi Che hanno garantito Il mantenimento Di buoni livelli Occupazionali Dopo il disastro Delle manufatture E dell'industria Meriterebbero più attenzione Da parte della politica E delle istituzioni E chiudiamo con la pagina Degli eventi Perché è tutto pronto Per il fine settimana Il primo fine settimana Dedicato al Cartoceto Doppil Festival I festeggiamenti Per la quarantesima Mostra mercato Dell'olio e dell'oliva Prenderanno il via domani Con un mix di linguaggi Fra inogastronomia Natura, storia Arte e musica Le osserie apriranno I battenti Dalle ore 19 Per proporre I piatti Della tradizione Realizzati con ingredienti Del territorio Che nubilitano La Dopp Cartoceto Alle ore 21 Si alza il sipario Sul primo dei quattro concerti In programma Al Teatro del Trionfo Sul palco Sarirà John De Leo Con la sua grande Abarasse orchestra Domenica 6 Invece Una giornata Ricca di eventi Fin dal mattino La mostra a mercato Dei produttori Aprirà alle ore 9 In piazza Garibaldi Con gli stand Dove sarà possibile Acquistare Olio, olive Conserve E formaggi Alle 15 Invece L'inaugurazione ufficiale Con il taglio del nastro Ma tutte le iniziative Del festival Le potete trovare Nel nostro sito Occhioalanotizia.it E questa era L'ultima notizia Del nostro telegiornale E ovviamente Ritorniamo Punto alle lunedì sera Alle 20.30 Grazie per la vostra attenzione E buon fine settimana Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione